E' ormai una consuetudine il superamento dei mille partecipanti, ma il fatto di essere arrivati alle tre cifre due settimane prima dell'evento è di buon auspicio per un'edizione da record. E' iniziato dunque il conto alla rovescia per la Colle Marathon 2018 che ha già registrato 750 iscrizioni per la maratona classica di 42 chilometri e 195 metri da Barchi a Fano e 250 iscritti per la mezza maratona che prenderà il via da Mondolfo. A questi numeri vanno poi aggiunti gli atleti dell'Anwi Fano che come ogni anno si cimenteranno nei vari percorsi nelle discipline Nordic Walking e Fit Walking. Quest'anno arriveremo alla Rocca Malatestiana e quindi si partirà da Barchi alle 9, in contemporanea partirà da Mondolfo anche la mezza maratona, quindi ci sarà, ecco, invitiamo tutti quanti per far sì che tutti siano presenti in questo percorso perché sarà un grande spettacolo. Fino a tre giorni prima della partenza, quindi fino a giovedì noi accetteremo iscrizioni perché si stanno ultimando anche tanta gente del posto che si mette in gioco, quindi prepariamo anche loro. Abbiamo concordato con i vigili e con tutta la protezione civile, pro loco tutti, quindi avremo, ecco, cercheremo di non disturbare più di tanto anche chi lavora e quindi mezza città sarà libera e arriveremo alla Rocca passando sempre via mare, quindi ci sarà, ecco, un bel percorso dove tra l'altro sarà tanto animato quest'anno grazie ai gruppi musicali che ci saranno sul percorso e ci sarà tanta animazione. Ci sarà Fano Jazz, la Fandolfaccia, c'è la Proloco che farà un gran lavoro, CSI, Avis Fano, quindi abbiamo tante associazioni, tante sinergie, tanta coesione sul territorio. Saranno 14 gli alberghi aperti nel comprensorio nel fine settimana del 6 maggio che dovrebbero far registrare il tutto esaurito, dati che ancora una volta confermano quella che è una caratteristica della Maratona dei Valori, vale a dire la capacità di muovere un indotto importante coniugando sport, turismo e cultura. Di presenze tantissime perché intorno alla Colle Marathon girano circa 2.500 persone, non solo 2.500 persone ma una promozione immensa perché tutto il nostro territorio vive su questo evento. Gli alberghi che sono pieni sono quelli al centro storico perché la Colle Marathon quest'anno hanno avuto una bellissima idea di fare l'arrivo al centro storico e quello è importante. Il dopo evento gli albergatori lasciano a disposizione parecchi per fare le docce e ritornare alla normalità perché dopo 42 km è una bella faticaccia. Bellissima l'idea di fare Mondolfo la mezza maratona perché porterà tanta tanta gente, non solo gli sportivi ma anche gli appassionati della camminata.